... ... Vi siete mai chiesti cosa vuol dire essere artista? O meglio, vi siete mai chiesti cosa vuol dire fare l'animatore? La risposta è sulle vostre facce, 24 ore al giorno, in mezzo a vera gente, ridere, scherzare, giocare. E chissà quante storie d'amore hanno visto queste quattro nuova, eppure essere artista vuol dire ridere quando voglia di piantere, scherzare, obbligare tonalmente quando si strisce. Per me l'animatore è una persona che vive al suo tempo, sopra una voletta creata e posta per me, ogni tanto torna giù, postata alla dura realtà e via, quasi per magia, torta a tutte le sue sue sue. Dopo mille stagioni decidi che è l'ultima, parmi a casa, cerchi di vivere la tua vita normale. Ed è proprio lì che ti accorgi che basta una chiamata per scoprire che la valigia non è mai stata svuotata, che esiste sempre un amico per portarti in stazione, e che il treno, per la tua felicità, parte tra meno di un'ora. Da piccolo mi sedevo spesso sul cilio della strada e ascoltavo le storie che aveva da raccontarmi. Desideravo una bicicletta con i raggi cromati, una casa tutta bianca, ma soprattutto desideravo attraversarla quella strada e scoprire chissà quali altri segreti il mondo mi nascondeva. Oggi, a distanza di anni, mi siedo ancora sullo stesso freddo ciglio. Ho avuto la bicicletta con i raggi cromati, una casa dai muri bianchi, ma fra me e me penso, in fondo si sta meglio qui. La gente è spesso borbotta, più diventi vecchi e più diventi svanito. E non è vero, non è vero, io sono sempre stato svanito. Ogni tanto, verso sera, ti cogli la malinconia. E se ti resta ancora qualche spizzolo nel telefono, pensi subito di chiamare a casa. Siamo pronti per la prossima scelta. Il volenzio. Componi il numero e spesso ti rispondi una voce fredda e metallica. L'utente non l'hai chiamato, non è al momento raggiungibile, eccetera, eccetera, eccetera. Ho la voce di tua madre, già, mia madre. Mia madre ha passato la vita a darmi il meglio. Le migliori scuole, l'educazione superiore, l'università. E io l'ho ringraziata con un semplice, ciao ma, io vado. Io vado a vivere tra la gente. Una vita di sogno infranta, nell'istante di poche parole insulse. Vado a chiederti un favore. Se vi capita di incontrare delle strane persone rinchiuse in tutte colorate, con un sorriso stampato sul viso, non cambiateli, amateli, criticateli, ma non cambiateli. Vi prego, non cambiateli. Se fate ciò, neghereste al mondo l'ultima categoria che il mondo può vantare di sognatori ad occhi aperti. E anch'io nel mio piccolo mi sono cimentato nel forgiare un aggettivo. e dopo tanto, tanto pensare l'unico che mi è venuto in mente è artisti. grazie mille. applausi Grazie. 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 Grazie a tutti, veramente di cuore, grazie da parte mia e credo anche da tutti i miei ragazzi. Vi credo che questa volta un applauso siano loro a farlo poi. In questo momento vi ringraziamo, vi salutiamo e ci rivediamo l'anno prossimo. Ciao.